Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale oggi siamo sul quarto episodio di Call of Duty Advanced Warfare e intanto ragazzi vi voglio dire che praticamente proprio in questo momento sono ai 49 iscritti e ragazzi giuro che se arriviamo ai 50 iscritti faccio uno speciale su GTA V anche in compagnia di qualcun altro e questo video praticamente durerà non lo so mezz'ora, 40 minuti, un'ora c'è roba del genere, avete capito? e vai tanto oggi siamo sul quarto episodio del Rosso Command o quinto non lo so, non ho una buona memoria vai, dai, ma che domanda papà non so se sono sul quarto, sul quinto, dopo o il sesto addirittura no però penso di no e noi andiamo ma che cacchio attento man tanto come vedete sto usando l'HBRA3 l'HBRA3 è una roba del genere e come vedete ha la mimetica azzurra ma non perché l'ho sbloccata perché è fatta così, quella è in modalità cowboy è professionista, l'ho trovata in un lancio di rifornimenti è molto potente andiamo tanto sto facendo schifo come sempre dai ma sempre faresti assist muori grandissimo mi sta partita quanto dura? 8 minuti 9 minuti ma che cavolo vai perché non salta? c'è ho ho l'exo e non salta sto tarello di mio personaggio tanto stanno entrando persone persone nel party Babi andiamo e ragazzi oltre a questo video oggi uscirà anche un episodio non lo so se portarvelo se portarvi l'episodio del Let's Play di Infamous o un nuovo episodio su Far Cry anche così per così di caccia magari la continua dove ucciderò il tasso del miele me l'ha consigliato il mio amico usiamo la la ASM1 proviamola bo 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 mi subito appena impugnata uccidiamo uno mamma mia che è giocatore andiamo vai 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 andiamo anche nei video ragazzi andiamo dai non ci posso credere ragazzi è una tosta terribile lo so l'ho già detto in tutti i video che sto facendo però va bene andiamo dai mi ma chi sono rambo va ora me la paghi oh ragazzi vai no ma non ci posso credere 7-9 ma che schifezza è più bravo bo bo prendiamo giù 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 vai 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 no mi sembravo mio compagno uccisione confermata uccisi 70 nemici con l'h bra 3 ma dai mi hanno colpito no chi è che mi ha sparato no voglio proprio vedere che camper si deve vergognare vai vai cos'è? oh my god ma dai senti ragazzi io abbandono la partita perché oggi proprio non sono in forma non preoccupatevi se non vi ho fatto il video completo aspettiamo lancio i rifornimenti casino la madonna sentiamo non ho sentito niente perché ho disattivato il volume degli altoparlanti non me lo ricordavo e ragazzi non preoccupatevi se non vi ho portato tutta la partita intera ma oggi arriverà un video su far cry forse e anche su infamous first light e se arriviamo ai 50 iscritti come vi ho detto farò un video insieme a dei miei amici su GTA che durerà mezz'ora 40 minuti 50 un'ora io vi ricordo di lasciare tantissimi like arriviamo a arriviamo a 15 like per il prossimo episodio del Road to Commander su Call of Duty Advanced Warfare commentate iscrivetevi al mio canale passate una pagina in facebook che trovate nella descrizione in ogni video e noi ci vediamo al prossimo video bella ciao ciao ciao